Beh, premetto che io ho fatto un intervento molto tecnico, insomma, non di tante parole ma di immagini. L'ho chiamato riuso di spazi, spazi verdi, edifici in abbandono e così via. Molte idee sono scaturite dai giovani che facevano parte dei laboratori, di che cosa manca. In sostanza, la mia idea è quella di portare questa città, non a restare una piccola città, ma a cominciare a entrare a far parte di un spazio molto più ampio, se non europeo, insomma. E come attuando questo? Beh, tanto ho fatto un'analisi di dove si trova Pordenone rispetto ai paesi vicini a noi e tutte le attività importanti che ci sono a Pordenone, dal cinema muto, a Pordenone legge, alla fiera. E mi sono concentrato un po' anche a questa idea del 2019 per Venezia con il nord-est, capitale europea della cultura, dove a Pordenone sono state assegnate letteratura, cinema e creatività, che sono tre cose molto interessanti, immagino letteratura per Pordenone legge, cinema muto e poi creatività, che a noi sta bene. Ecco, i ragazzi esprimevano questo desiderio. Per noi non c'è un luogo dove trovarci, cosa che ho sentito anche dal ragazzo prima. Allora ci troviamo sempre al solito bar e allora io ho pensato perché non prendere un edificio, non guardate il tipo di edificio. Io ho preso questo in Piazza Risorgimento che era l'ex Catasto di molti anni fa e lo potremo svuotare e trovare all'interno uno spazio per i giovani dove collaborano insieme, fanno musica, web, scambio di idee e così via. E un'altra richiesta che è stata fatta è quella che non c'è un ostello per la gioventù a Pordenone. Perché non utilizzare per esempio gli ex bagni pubblici e trasformarli in ostello della gioventù? Siamo in pieno centro, siamo vicino a strutture culturali. Io ne ho visto uno a Milano ristrutturato con non molti soldi, con arreddi molto spartani, molto semplici. E un'altra idea che era venuta fuori in questi incontri è che vorremmo utilizzare meglio gli spazi verdi. Perché non mettere delle piccole stanze urbane attrezzate per mettere la bicicletta, lavorare al computer, ritrovarci insieme e fare una piccola discussione? Invece che la solita panchina è il tavolino che può esserci. E anche quello l'avevo messo su Parco Galvani, mentre in Parco San Valentino c'è chi ha detto beh, ma sarebbe bello attrezzarlo con dei piccoli padiglioni, io ho preso delle immagini a caso, non ho voluto pubblicizzare nessuno. E lavorare all'interno tutti quanti insieme e scambiarci queste idee. Poi un'altra cosa che noi abbiamo, abbiamo diversi edifici storici lasciati in abbandono. Ne ho presi quattro, uno è vicino a San Giorgio, uno è Villa Tinti, poi la barchessa della Villa Zanussi è il parco urbano comprensoriale che ha un grande caseggiato in abbandono e potremmo attrezzare queste quattro costruzioni anche facendo uso di contributi europei che ce ne sono adesso per fare una specie di albergo diffuso, non so, ma che può fungere da albergo in alcuni momenti degli eventi che ci sono a Pordenone, ma possono anche servire alla comunità, cioè ci può entrare la comunità per esempio per imparare a fare gli orti urbani, per imparare a coltivare, offrono dei servizi che altre strutture non offrono, si può fare il co-working come diceva prima Barbon, siamo vicino alla fiera in tutte queste zone e potremo anche approfittare poi dell'ultima diapositiva che vedremo adesso nel parco urbano comprensoriale, c'è un grande edificio che ha 100 ettari di proprietà, potremo partire da lì per poter poi passare alla sistemazione di tutto il lago della Burida e rivalorizzarlo. Per ultima cosa ho preso un capannone qualsiasi sfitto, ce ne sono molti senza costruirne di altri, e perché non creare all'interno di questo capannone una sorta di co-worker? Cioè tanti piccoli artigiani, giovani, si mettono insieme, dividono le spese, producono, e ho preso come esempio, possono produrre e vendere e esporre la loro merce, ma io ho preso come esempio Perugia, che ha iniziato questo Art City, sono 4-5 anni che ci lavorano, sono diversi piccoli artigiani, ma di pregio, fanno anche occhiali, non fanno i piatti e basta per intenderci, e hanno occupato vari, naturalmente lavorano in rete tutte queste persone, e hanno occupato vari spazi dismessi nel centro storico di Perugia, è diventato un esempio anche per le persone che vengono da fuori Europa, vanno a visitare Perugia per vedere come sono state sistemate questi piccoli laboratori, e sostanzialmente questa è la mia idea.